Il treno regionale 23.5.1.4 di Tremi d'Italia, delle ore 9.35, proveniente da Fasano, è in arrivo al binario 7. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 19.9.4.9 di Tremi d'Italia, delle ore 9.37, per vitritto, è in partenza dal binario 11 tronco. Per me in tutte le stazioni. Tremi d'Italia, regional, treno 19.9.4.9 di Tremi d'Italia, con il treno regionale di Tremi d'Italia, Tremi d'Italia, delle ore 10.27, per vitritto, il treno regionale 19.9.5 di Tremi d'Italia, delle ore 10.27, per vitritto, di Tremi d'Italia, delle ore 9.35, proveniente da Fasano, è in partenza dal binario 7. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti